Un carnevale diverso dagli altri, quello vissuto al tempo del Covid, con le restrizioni in atto, ogni forma di manifestazione, corteo, sfilata è stata annullata dall'ordinanza regionale. La città di Agropoli in altri tempi in queste ore si sarebbe preparata per la grande sfilata dei carri allegorici, che purtroppo quest'anno non colorerà le vie cittadine. Quest'anno sarebbe stata una festa ancora più sentita per le 50 candeline che l'evento avrebbe dovuto spegnere. Nonostante ciò i bambini questa mattina, accompagnati dai loro genitori, hanno trascorso momento di spensieratezza tra i quereandoli e sorrisi colorando Piazza Vittorio Veneto. Stamattina in riferimento al fatto che oggi martedì grasso, immaginavamo che visto il bellissimo tempo e la giornata di sole, che ci sarebbe stato un afflusso di bambini e famiglie in generale, per cui abbiamo predisposto un servizio appiedato di agenti di Polizia Municipale per cercare di far rispettare la nuova ordinanza di De Luca, del Presidente della Regione Campania, in riferimento al discorso della distanza e delle mascherine. Sinceramente noto con molto piacere la collaborazione di tutti i cittadini di Agropoli e di fatti abbiamo fatto pochissimi interventi in merito. Quindi pochi assembramenti, insomma i genitori molto responsabili, tutti con la mascherina. Gli assembramenti ci sono stati, però sempre nel rispetto della normativa, quindi abbastanza lontani la distanza e soprattutto veramente tanti, tutti direi, con le mascherine. In queste ore la città di Agropoli in altri tempi si stava preparando per la sfilata, la grande sfilata dei carriari legorici, quest'anno 50 candeline per una manifestazione storica. Quanto dispiace non poter vivere questo momento? Eh beh, certamente vedere una manifestazione credo sia la più antica attualmente nel territorio di Agropoli. Vedere una manifestazione così bella, ahimè per i noti eventi, duele, duele, però sicuramente ci faremo negli anni successivi. Carnevale al tempo del Covid, lei non ha rinunciato a portare il suo bimbo a divertirsi un po' qui in Piazza Vittorio Veneto? No, perché è l'occasione per stare, cioè è l'occasione per un po' di aggregazione tra i bambini, anche perché comunque è più di un anno che si hanno chiusi in casa, quindi è l'occasione giusta. Oggi non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri legorici nella città di Agropoli, il Carnevale quest'anno avrebbe dovuto compiere 50 anni. Eh beh, ci rifaremo l'anno prossimo, purtroppo in questi casi è meglio evitare. Lei non ha paura quindi di stare qui in piazza con altre persone, insomma? No, con il distanziamento giusto va bene così. Nei limiti delle restrizioni Covid i bimbi stanno un palla aperto rispettando tutta la normativa. Ecco, quanto le mancherà la sfilata tradizionale dei carri legorici che quest'anno avrebbe dovuto compiere 50 anni? Ecco, non ci sarà a causa appunto delle restrizioni per quanto riguarda la pandemia. Sicuramente per i bambini era un momento di gioia, un momento di allegria. Dobbiamo rinunciare, è necessario rinunciare. L'anno prossimo sarà ancora più bello. Perché rispetto all'anno scorso o ai scorsi carnevali, questo carnevale, diciamo, non l'abbiamo potuto festeggiare magari come gli altri, appunto con le sfilate, dei carri. È tutto diverso dai tempi scorsi. Ma tu ti sei organizzata comunque, ti sei divertita allo stesso modo, giusto? Sì, sì, io mi accontento con poco, anche se non mi sono potuta vestire, mi sono molto divertita. Si sta proprio bene. Era inevitabile comunque non poter uscire con questa bella giornata. A scuola non si è potuto fare niente, comunque non si può fare niente, quindi almeno una passeggiata, due coriandoli. Ecco, quanto è triste non poter vivere la manifestazione? Quanto è triste, non è triste solo il carnevale, è triste tutto. Però... Ma quanto lo senti quest'anno il carnevale? Non sei mascherato, hai solo la mascherina. Non mi piace molto travestirmi, però... Sì, dai. Ti dispiace che quest'anno non si terrà la sfinata? Certo. Sì, mi dispiace molto, solo che dobbiamo stare attenti con sto Covid. Antonio, allora, qual è la tua passione? Il beatbox, tipo fare vesti con la bocca, tipo... Faccio sentire un brano. Bravissimo, complimenti! Ciao! Ma come me vale? Ciao! Ciao!